Ciao a tutti, sono Cristian Tiozzo, musicista attivo principalmente nella scena veneta e anche quest'anno ricomincio i corsi aperti a tutte le età. Il percorso di studi è personalizzato in base al tuo livello a partire da un primo approccio con lo strumento. Se invece sei un batterista con esperienza possiamo approfondire diversi generi musicali che spaziano dal jazz al rock. Se sei interessato o vuoi altre informazioni contattami. Grazie a tutti.